Ma quanto tempo è passato esattamente, Fered? Tantissimo, Steph! Io sono curioso di controllare, ma credo un annetto. Eh, più o meno sì. Vero? E guarda, Steph! Nel frattempo i player sono diventati storti. Guarda sta qui, guarda sta bionda. Oddio, ma che problemi hai avuto, amica mia? Non lo so. E poi perché corriamo come Naruto? Ma che succede? Vabbè, quello l'ha scelto il tipo, credo, perché praticamente stiamo facendo un parkour. Però un parkour particolare è perché dobbiamo scappare dal nonno. Ok. Ed è il nonno che si collega a Granny. Quindi è il nonno, per modo di dire. Allora, se Granny era la nonna, lui è grampa, più o meno, no? No, vabbè, grampa è il modo giusto. Secondo me è granno. Granno, lo chiamiamo. Come il grano, però con due n, capito? Granno. Granno. Sì, sì. Granonno! Allora, comunque ha fatto troppo questa tv, gli ha fatto male, quindi è stato arrabiato. Sì, no, direi, se la fissi troppo fa male pure a testa. Esatto. Diventi così e perdono i denti e finiscono qua, ok? Possiamo partire? Sì. Allora, andiamo. Sì, forza. Ok. Naruto! Ah, si moriva lì, ok. Ok, scusa Steph, pensavo fosse il tappeto fatto apposto. No, per favore, tanto se tu non schiatti in queste cose non sei tu. Allora, sono arrugginita. Ma questa è una porta segreta? No, non era una porta segreta. Sì, era una porta segreta. Ci ho sperato. Ok. Allora, arrivo. Aspettami, ma aspettami che non c'erano porte segrete. Per favore, toglietemi! Steph, sono difficili questi fatture. Non è vero, sono facilissimi. Ma è che ci ho perso la mano, ovviamente sono arrugginita. Ma non è vero, ma smettila. Mi concentro e faccio versi! C'è la faccio, ok, ok, faccio. E' un checkpoint questo? Questo è un checkpoint? Ho fatto prendere un colpo. Sembra che mi dai a partire un suo. E' un checkpoint questo? Sì, Steph, penso di sì. Secondo me no, perché la gente riparte sempre da dove siamo noi. Non lo so, spera che lo sia. Allora. Ok, questo è tosto. Vado prima io. Facciamo andare prima a sto tizio. Tizio, vai. Allora, anche se ti chiami... Jodo e... Sì, sì, bravo. Salta. Hai la skin da guest. Eccolo. E quindi non va bene, capisci? Ok. 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 È bravissimo! Ce la fa, eh? È morto? Sì. Sì, l'ho sentito adesso morire. Ok, perfetto. Allora, non facciamo il suo stesso errore. Io ce l'ho fatta. Il resto che non mi hai schiatta. Ce la fa? Cos'è quella? Una risata? Questi sono i checkpoint comunque. Sì, fanno un suono strano. Allora, siamo in una cucina gigante perché ce lo dice lui. Allora, ci dice di evitare le griglie bollenti, quindi suppongo quelle roste. No, guarda, pensavo di andare proprio lì. Sai, non vedevo l'ora di bruciarmi i piedi. Io avrei scelto la rossa. Comunque, questi cosi sono dei checkpoint. Ci devi girare un po' intorno e te lo dà. Ah, è così. Ok, adesso dobbiamo evitare ovviamente le lame. Ma in tutto questo il nonno dove è finito? Io volevo affrontarlo. Ancora guardare la tv, Steph. Volevo affrontarlo. Volevo un uno contro uno all'ultimo sangue come con la nonnina, capito? Lì che ti insegue. E a te viene un infarto. Che ti tira le dentiere. Che ti tira le dentiere. Le devi schivare. Non ci ha mai tirato le dentiere, la nonnina. Vabbè, ma grampa sì. Granno sì. Granno sì. E lo fai tu il gioco di granno? Sì, facciamo il gioco di granno, Steph. Non lo facciamo. Siamo tornati al punto di partenza. E non c'è granno. È scomparso granno. Dov'è granno? Granno è scomparso letteralmente. Steph, dove è finito il nostro granno? Però, ferma, 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 ferma. Ha detto, diciamo, a dead end come lo possiamo tradurre in italiano? Un vicolo cieco. Sì, è perfetto. Dice, prova a cliccare gli oggetti per trovare una porta segreta. Vuoi scommettere che è la dentiera? È questo. È la dentiera, avevo ragione! Io ho premuto il vaso, cioè il secchio d'acqua. Ok, pronta? Vai. Andiamo. Bellissimo. Le hai detto tu che tirava le dentiere, quindi doveva sempre forzare la dentiera. Hai ragione. Dovevi credere in te stessa. Ok, scusate, ma cosa c'entra però questa roba? È il cervello di granno. Dopo aver guardato tra quella tv si è fritto così, Steph. Ma no. Sì, sì, ha senso. È la lava? È la friggitura del suo cervello. Andiamo, andiamo, Steph, andiamo. Cosa si friggono con la lava, Fede? Sì, si friggono. Steph, abbiamo un bivio qua. Un bivio? Un bivio. La strada scegliamo, è un labirinto. Aspetta. Sinistra, destra, strada qua. Tu cosa scegli? Qua. Io vado dall'altro. Ok. Deve tanto fare a sbagliare sempre. Era un piccolo cieco. Vero? Maledetto! Maledetto! Mi dovevi seguire. Io l'odio. Allora. Ok, credo di aver già così finito. Fede, io ho finito. Lo sai che... Anch'io, Steph. Perché non mi segui in queste cose? No, finito. Cioè, lo sai che adesso non tornerei mai più indietro, vero? Ho finito, stai zitto. No, è vero. Guarda. Ho finito. Maledetto! Fere. Miscredente. Opla. No, Fere, 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 Fere. Opla. Fere. È di fronte a noi. Andiamo a pestarlo, vai. Sicura? Sì. Guarda che ti pesta, lui. Granno! Oh, granno! Alzati dalla poltrona che ti sta friggendo il cervello. Guarda, Steph, c'ha pure due denti. Ma sbaglio una gamba da pirata come me? E lei è davvero mio nonno. È tuo nonno, Steph! Si è scoperto che granno! E quindi, allora, tu sei il... Come si può dire nipote? Il... In questi... Nipotto. Nipotto con due t... E quindi... Io non c'entro niente, non faccio parte della tua famiglia. Ciao. Non me lo aspettavo fosse mio nonno. Ciao, nonno. E tu sei il suo nipotto. Non hai capito perché sono un po' strano. È tutto più chiaro. Vabbè, vado avanti. Allora, eh... Ok. Vanno evitate? Sì. Non è vero! Steph, barano queste cose, eh. Secondo me l'hai toccato, mi dispiace di tutto. No, l'ho toccato. Allora. Tutto di fila. Tutto di fila. Eh, sì. È proprio tutto di fila. Eh, sì. Dai! Non l'avevo preso. Non l'avevo preso. Ho rotti. Ma non è che fa fare questo e fare... Sì, fare è rotta. È rotta nel cervello. Tu andavi in obliquo e bastava andare dritti, vabbè. Perché li preferisco mentalmente da fare obliqui. Sì, 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 sì. Allora, il nostro nonno a quanto pare sta bruciando la casa. Io te l'ho detto che ho un po' pato. Compresa la sua dentiera. Ok. Tutto a posto. Solo per te, tutto a posto. Sì, stai. Stai, scende il livello della lava. Devi essere veloce come me. Devi essere veloce come Fere. Capisci? Ti ha cappotto il nipotto. Vedi, sto anche a rappare. No. Potrei fare anche il rap. Lascia perdere che non lo sai fare. Adesso muore. Opla. Opla. Fere vorrebbe fare la cantante trap nella vita, però non lo ammette. No, rap. La trap non mi piace. Aiuto. Il rap è bello. Ma se ogni volta fai le canzoni trap, non fai le canzoni rap. Non sei rappare. Non ho fatto una canzone. Sì, questo... Non mi hai preso. Sul cane, le fai sempre. Allora, vabbè. Vedi? Sul cane, sul cane. E dici sempre che vuoi fare l'album. Dimmi che non è vero. Sul cane ho scritto almeno due. Ma non ridere all'infinito, per favore. È vero, però. Muoviti. Non ho capito come si fa. Vai dritta e aspetti. Io prima ero in mezzo tra i due. Mi ha fatto morire lo stesso. Fere è il livello più semplice che abbiamo fatto fino ad ora. Allora, mi metto qua. Non c'era. Cioè, capisci che non c'era. Compare all'improvviso. Tu aspetti che compagli. Appena scompare passi, vai avanti e lo rifai. Che fastidio. Dai. Oh, brava. E comunque le canzoni tsunami sono canzoni rap, non sono canzoni trap, quindi smettendo di dire che... Sono canzoni trap. No, è vero. Non le hai mai neanche sentite. Non te le ho mai fatte sentire. Ma sono orribili, per di più. Tu sei orribile. Ma ho preso lo stage prima di morire? O le hai preso solo tu? Prese solo io. E me le vado senza di te. No, le ho preso anche io. Sono distruite. La faccio cadere. Ma quel... Ci ha mangiato. Quanti parkour hanno fatto dei Roblox dove vieni mangiato esattamente? Cioè... Tipo tutti. Tipo tutti. Non credo di averne meglio... Non l'avevo visto, oddio. Ma non mi ha fatto nulla. No, non fa nulla, ok. Credo che la fantasia di chi crea le mappe sia sempre molto poca, però vabbè, dai. Siamo stati mangiati da grano, quindi andiamo avanti. Adesso siamo nella schiena di grano. Ah, certo. Eh, ho capito dopo, sì. Però hai fatto una figuraccia, eh. È troppo tardi. Ehi, resetta. Il gioco ti ha punito un po'. Allora. Steph, a difenza di Ferre, non ci casca queste cose perché... Non la so fare sta roba, è troppo difficile. Ok. Come fai? Perfetto. C'è di nuovo questo. Non lo so, io vado via. Ciao. Dai, dai, aiutami. Questa volta devo fare in diagonale come aveva fatto Ferre. Cioè, poi come faccio? Non riesco ad arrivare all'altro. Sinistra-destra, Ferre. Eh, non ci arriva. Fammi vedere il tuo salto. Guarda. Ok. Guarda. Io vado qua. Eh. Esatto. Ora ha fatto. Eh. Ora ha fatto. Brava. Brava. Non stava saltando. Che brava, ragazza. Ok, perfetto. Cos'è sta roba? Stai, fa spezzami. In obliquo, in obliquo. Se lo fai il primo tentativo ti aspetto. Sono qui. Bravore. Occhio, eh. Bravore. Stava strana. Ok. Ma scattano tantissimo. Lo so, infatti. Non si capisce nulla. È irritante. Dai, eh. L'hai visto, Steffa, che ha lagato. Tu hai preso il checkpoint, eh? L'hai visto che ha lagato. Tu l'hai preso? No, non pensavo. Ah, l'ho preso io. Maledetto. Non mi sta facendo impazzire. Ci sta andando totalmente a caso. Ferre, ci sono i pezzi di melagrana. Vieni, vieni, vieni. Guarda. Preso. Questo è melagrano. Andiamo. Più o meno. Oppure sono gli acidi, i succhi gastrici del grano. No, è melagrano. Ok. Questa è la classica cosa. Scumetti? Cioè, così tu pensi è normale. Invece è la classica cosa da tapirulano. Visto? Ovviamente. E Ferre, dopo 40 anni ancora, ci... Il grande Steffa. Non c'è da posto. L'avevo saltato. Facciamo la canzone trap con... Uh, 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 uh. Probabilmente diventa più famosa sta canzone, sta. Non è che quelle troppe siano con molte più parole, eh. Uh, uh, uh. Poi ci aggiungi tipo muoio su Roblox. Io muoio e faccio i livelli. Ma io stavo ancora facendo la canzone, sta. No, ma io sono morto insieme a te e mi ha dato il livello fatto. Vabbè. Ah, ho finito? Io li sto saltando, però. Grande! Questo livello è rotto. Iscrivetevi su... Packstabber on YouTube, perché l'ha scritto lui con quella faccina felice. Ragazzi, dovete andare a cercare il canale e farlo. Per forza, Ferre, diglielo. Come è possibile che io finisco, ok? Sono alla porta e muoio. E poi l'ho fatto. Cioè, che cavolo vuol dire? Mi do saltare a questi robbi, sì. Cos'è questa cosa? Ho paura. Di che cosa? Di questi pulsanti. Cioè, ci apre il canale YouTube se premiamo? Allora, Steph. Prova tu. Qui c'è un errore madornale. Che non ci siamo noi, non fai ridere. Premi. Cioè, Guava Games. Premi, no? Allora, io premo questo. Uno. Chi sto prendendo? G-rated. Non so manco chi sia. Non fa nulla. Pensavo che fossero i link al canale YouTube che portano Roblox. Mappa finita. Siamo scappati da Granno. Ovvero mio nonno. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Tanti like se si volete rivedere ogni tanto Roblox. Vi dico già che nel caso sarà ogni tanto. Quando troviamo qualche mappa che ci fa ridere, che ci fa divertire, la portiamo. Altrimentino. E quando troviamo mappe soprattutto del nonno di Steph. Esatto. E qua sotto compariranno altri video. Speriamo comunque che vi abbia fatto piacere di vedere Roblox. E ci fermiamo così. Ciao ciao.